Per la Rassegna Flash di oggi martedì 13 settembre, stiamo con una notizia di animali e elezioni alla tutela degli animali e tra i temi sensibili dei partiti. Secondo un'analisi dei programmi elettorali realizzata dalle 13 associazioni animaliste firmatarie dell'Appello, il tema di sempre maggiore interesse per l'opinione pubblica è ancora poco presente nei programmi elettorali. Si riscontra una minima sensibilità da parte di alcuni partiti, in altri è drammaticamente assente, ma ci sono tre porti unificati in diversi schieramenti, ecco i quali. Berlusconi, lette e calenda, destinati all'irrilevanza, impossibile, in un altro governo Draghi, Piemonte, Griglio, PD, ricucire il rapporto con moderati decisivi per battere la destra, Bonino, fondamentale ridurre l'acconto d'IVA per il futuro dei giovani Unione Europea, l'ipotesi dei tagli e dei consumi ancora estero, Google compie 25 anni, insisto San Giovanni nella sfida Rautifiano, rivive la tesi dello sfondamento a sinistra. Per la rassegna dei quotidiani, Corriere della Sera, diritti e Unione Europea sfida il Meloni, letta. L'Unione Europea spegne la luce e la Repubblica, la stampa, appello del Papa, più stipendi ai giovani e alle donne. Libero, la Meloni si mangia Enrico, cotto, letta. Il giornale avanti con le sanzioni, ma l'Europa paghi il fatto quotidiano Draghi, l'euro flop sul gas e scuole senza aerazione. Questo è molto altro su Notizie Non Click, nella rassegna flash di oggi e noi andiamo a continuare a pubblicare altri articoli. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che se volete diventare giornalista per un giorno potete cliccare qua. Grazie ancora, Loretana. Grazie a tutti.